Due osservazioni psicologiche e politiche, ci sono due rischi in cui sicuramente il Presidente Draghi non cadrà, perché è un uomo di grande esperienza anche internazionale. Spesso l'Italia nei confronti degli Stati Uniti con riguardo al Mediterraneo e alla Libia ha voluto ottenere successi di facciata da spendere sul piano interno, organizzare una conferenza sulla Libia a Palermo, oppure avere nominalmente una funzione di comando o di guida in quella parte del Mediterraneo e dell'Africa. Questo spesso ci ha nuocciuto anziché giovarci, ma ha dato ai ministri degli esteri dell'epoca qualcosa da poter spendere in casa. E l'altra cosa è che dobbiamo al tempo stesso, soprattutto alla luce del problema dell'immigrazione, europeizzare il più possibile le questioni del Mediterraneo. E una delle rare cose che io non ho condiviso nella politica del Presidente del Consiglio Letta, in tutta la sua storia, è quel nostrum simpaticamente ma pericolosamente appiccicato a mare nostrum. Questo ha dato una sensazione che fosse affare nostro. Affare dell'Italia soltanto. Claudio Tito, riferivo prima questi... Sì, insomma, sono immagini.